La libertà è partecipazione, cantava nel 72 Giorgio Gaber, un concetto che a pochi giorni dall'Election Day, che riporterà a quarto un'amministrazione eletta dalla città dopo due anni di commissariamento, ha voluto rimarcare l'associazione politico-culturale Quarto Giovane in un incontro dibattito con la cittadinanza che si è svolto sabato mattina presso la sala Qualcosa in Più della parrocchia Gesù Divi Maestro. Contro l'indifferenza e il disimpegno, gli ospiti intervenuti nel corso del dibattito hanno provato a dare una risposta al quesito che, da quando è diventato sempre più diffuso lo scollamento tra cittadini e politica, in molti si pongono. Perché votare? La risposta che l'associazione Quarto Giovane si è data è che il futuro è di chi partecipa. Dunque tutti dovrebbero fare la propria parte. Perché votare? Perché è estremamente importante prendere parte attivamente alla vita politica del nostro territorio. Non possiamo assolutamente lasciare la nostra città nelle mani di pochi, che spesso quei pochi, come diceva Don Genni, sono dei mercenari. Pertanto noi dobbiamo concentrarci, dobbiamo dare il nostro contributo, il contributo diretto attraverso l'espressione dei voti, attraverso le candidature, il contributo indiretto attraverso l'associazionismo, le discussioni e la creazione di rete affinché possa in qualche modo trovare una soluzione definitiva alla rinascita del nostro territorio. Andare a votare è un diritto dovere del cittadino, che dovrebbe farsi carico della responsabilità di eleggere le persone che governeranno il paese per i prossimi anni, con responsabilità, con consapevolezza. E quanto ha asserito anche il padrone di casa, il parroco della Chiesa Gesù Divi Maestro, Don Genni Guardascione, che ha preso per primo la parola. A seguire l'intervento del presidente di Quarto Giovane, Eugenio Iannicelli, che ha sottolineato l'importanza in questo particolare momento storico, difficile per la politica locale e nazionale di abbandonare gli ideologismi e i colori politici per concentrarsi su questioni concrete. Oltre che valorizzare intende stimolare al di là soprattutto dei partiti perché ritengo che considerando le vicende politiche che hanno coinvolto la nostra città bisogna uscire fuori dagli ideologismi. Quello che io sto cercando di dire da diverso tempo, dobbiamo mettere insieme le forze sane della città, creare questo gruppo e nel momento in cui ci renderemo conto che la nostra città è abbastanza forte da un punto di vista morale, burocratico, quindi sociale ed amministrativo, possiamo finalmente sognare una lotta tra partiti. Oggi non è questo il momento, oggi noi dobbiamo creare il rilancio attraverso le aggregazioni delle persone per bene. C'è stato poi l'intervento di Renato Briganti, ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha focalizzato il discorso sulla necessità di conoscere la Costituzione per essere cittadini consapevoli. Hanno concluso i lavori il sostituto procuratore del Ministero della Giustizia, Marco Bottino, e Don Vittorio Zecone, fondatore dell'Associazione San Mattia Onlus. E mentre cresce l'attesa per il 31 maggio a quarto, c'è anche incertezza su quali saranno i candidati alla poltrona di primo cittadino. Il TAR dovrà decidere entro mercoledì in merito ai ricorsi presentati dalle sette liste escluse dalla competizione elettorale per un vizio nella procedura di presentazione delle liste. Penso semplicemente che queste sono delle vicende che devono affrontare gli organi proposti al controllo e spero soprattutto che le competizioni vengano fatte secondo i principi di legalità e nel rispetto delle regole.